I finanziari del Comando Provinciale di Nuore e della tenenza di Arbatax nell'ambito dell'attività di tutela delle entrate allo Stato hanno condotto una complessa verifica fiscale nei confronti di un'impresa che opera nel settore delle vendite di bevande e alimenti scoprendo che ha occultato al fisco negli anni che vanno dal 2014 al 2017 ricavi per 165 mila euro. I militari nel corso dei controlli hanno appurato che il titolare della ditta nel corso degli anni aveva sempre messo regolarmente lo scontrino fiscale ai propri clienti senza però presentare l'annuale dichiarazione dei redditi. Le fiamme gialle hanno proceduto ad una minuziosa ricostruzione del volume d'affari dell'attività commerciale nei tre anni sottoposti a verifica e grazie anche all'analisi di una copiosa documentazione extra contabile sono stati contestati al titolare ricavi per circa 165 mila euro, violazione all'IVA per circa 22 mila euro e violazione all'IRAP per circa 165 mila euro. Le attività spiegano in una nota le fiamme gialle rientrare in un più ampio piano di lotta all'evasione fiscale coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Nuoro e mira a contrastare le forme più grave e diffuse di evasione a fraude fiscale che producono effetti negativi sull'economia del territorio favorendo la concorrenza sleale tra imprese.